Parto subito con il dire che il titolo del video non è clickbait Ho veramente fatto quel numero di iscritti in tre giorni, però un passo alla volta Quindi prima di tutto, sigla! Ebbene sì, ci sono cascato dentro anch'io, però mi raccomando, prendiamo con le pinze un attimo questo aspetto qua Cosa intendo dire? È divertente, sì, è trash, sì, però non mi appartiene In che senso? Il tutto è partito domenica sera, quando ho deciso di scaricare l'applicazione Ho detto, ma proviamo alla fine E niente, l'ho provato, ho visto un pochino come funzionava, ma letteralmente a grandi linee Quindi molto semplicemente, ho visto che hai nella home dei video consigliati Ah, piccola parentesi, le immagini che vedrete saranno solamente del mio profilo e dei miei video Perché altrimenti gli altri che scorrono nella home o nei per te, essendo che ci sono un 90% minorenni Non mostrerò nulla, quindi mostrerò solamente quello che è il mio profilo praticamente Comunque, sono partito lì così con l'idea di provare, no? Visto che anche quando guardo altri video c'è sempre gente che Mario ne sponsorizza, ne parla e quant'altro Ho detto, ma così proviamo E niente, allora prendo lì il cellulare, scarico e vedo che appunto hai la possibilità di caricare dei video massimo di un minuto Hai 15 secondi, oppure 60 e oppure un altro formato Allora io ho detto, vabbè, proviamo, vediamo E ho caricato sopra l'anteprima, è stato proprio non il primo TikTok, il primo video caricato C'è una differenza Il primo video caricato appunto è stato un'anteprima di Nioh Avevo appena fatto quel giorno lì il video, se non ricordo male, e l'ho pubblicato E ho visto subito dei bei risultati Ho detto, cavolo, 100 visualizzazioni, 200 visualizzazioni Ma in una velocità incredibile ragazzi Ho detto, ma aspetta un secondo Proviamo a vedere di mettere qualcosa di più piccolo E lì ho fatto il secondo video, sempre con l'immagine comunque di Nioh Quindi aveva quello come frame di riferimento E anche l'argomento, era semplicemente una boss fight racchiusa in 15 secondi Con la possibilità di metterci la musica sotto loro E ho detto, ma proviamo Ho messo queste due robe qua E ho visto che comunque anche quello cresceva E basta Io ho visto solo quello Cioè, un numero di visualizzazioni che comunque aumentava Erano tante per me Vedere anche appunto 50, 60 All'inizio parlo poi 100, 200 e di dicendo Caspita Dico, proviamo Ero tutto lì, un po' della serie È un po', sarò quasi una cavolata Una minchiata, una bambinata Ho detto, dai proviamo È un po' trash E ho fatto il primo vero TikTok con me Quindi con la mia presenza L'immagine Con lo stile suo Praticamente E subito, pam Il giorno dopo Ha avuto 400 visualizzazioni È stato il video con più visualizzazioni Che ho avuto fino a quel momento E grazie a quel video lì Ho fatto due followers Voi dovete capire appunto Che io ho aperto questo canale Di YouTube Ho aperto Instagram E non è così La crescita che c'è lì sopra Anzi è molto più lenta E chiaramente Non le voglio mettere in confronto Come piattaforme Ragazzi ci mancherebbe Però capite un attimo Quello che sto cercando di dire È letteralmente Sì, un confronto che ho fatto Dei follower Ma semplicemente per dire La rapidità che ha come social È veramente rapido Allora Mi metto lì Il secondo giorno E ho detto Proviamo a farne un altro Caspita ragazzi Con quello lì Ok Quel video lì Che ho fatto Quel TikTok Che ve lo metto Perché Ha spaccato Praticamente Quel TikTok lì Mi ha portato Ad avere i risultati Che avete letto dal titolo Cioè Praticamente Mille follower In tre giorni Tre giorni Ragazzi Cioè Una roba che Io non ho mai visto Neanche poi Dal punto di vista Delle visualizzazioni Dal punto di vista Anche dei mi piace Numeri Incredibili Allora Ero lì Lo faccio E vedo che L'avevo più o meno Pubblicato intorno alle 6 di sera A grandi linee Adesso non mi ricordo Esattamente E comunque Tutte le immagini Che vedrete Chiaramente Avranno I numeri Che vi dico Adesso Sfalsati Perché comunque Io sto registrando ora Ma le immagini Le vedrete Più tardi Sfalsati in positivo Però Allora Vado lì Provo a metterlo E vedo Caspita Che la stessa sera Proprio la stessa sera Quel video lì Aveva fatto 4.000 visualizzazioni 4.000 E 57 follower Ero lì Ragazzi Era un continuo Aprivo l'applicazione E mi arrivavano follower Aprivo e mi arrivavano Poi vedevo le visualizzazioni Aprivo la notifica E ho detto Ma Caspita E ho detto Vabbè Mi fermo qua Sto calmo Vado a letto La mattina dopo Mi sveglio Che vado a lavorare E vedo 62 iscritti E dico Andiamo a vedere Le visualizzazioni Da 4.000 7.000 Il giorno dopo Quindi Il tiktok L'ho fatto Lunedì sera Martedì mattina Ho visto questo numero Vado a lavorare Faccio la prima pausa Che è più o meno Dopo un'oretta e mezza Due Vado a vedere E dico Ma cacchio Non riesco a leggere il numero Ma nel senso Siccome aveva anche Lo sfondo bianco Ero lì che guardavo E dicevo Ma che numero è? Perché io leggevo Fino a prima 7.000 Quindi avevo un numero Ben preciso Guardo Ed era praticamente 13.4k Ho detto Macca boia Ha fatto 13.400 Visualizzazioni Cioè Dei numeri Pazzeschi Pazzeschi E Io ero lì Ho detto Ma vediamo Intanto i follower Ragazzi Salivano in una maniera Incredibile La stessa mattina La stessa mattina Quella lì Io ho fatto Nella mattina Ok Proprio alla fine Della mia giornata Lavorativa Ho fatto già 331 iscritti Mi ricordo Che li ho stampati qua Perché Gli ho detto A mio collega Ma pensa te Che ho avuto Tutte queste visualizzazioni Ma non per quanto Ma tipo per stupore Gli ho detto Andiamo a vedere Com'è Nessa la situazione adesso Va a vedere E leggo anch'io 331 Quando avevo lasciato All'ultima pausa Prima Gli iscritti A 257 Ho detto Porca miseria Ho avuto una crescita Il 28 Quindi martedì Ho avuto una crescita Il canale di TikTok Incredibile Incredibile E fidatevi Ma questo è un aspetto Di cui parlerò dopo Non c'entra affatto Che basta pubblicare Per avere quei numeri Fidatevi Perché Ad oggi Che è venerdì Io Ho fatto anche altri TikTok E non hanno avuto Quello stesso impatto Quello stesso Successo Diciamo E quindi Non è la stessa cosa Non è che tutto quello Che pubblichi c'è Vuol dire che ho fatto centro Evidentemente Perché cacchio ragazzi Veramente È andato oltre A fine di quella giornata lì Avevo raggiunto Più di 700 iscritti Soltanto il giorno 2 700 E aveva fatto Circa Adesso se non mi ricordo male 167.000 visualizzazioni 167.000 visualizzazioni Ricordiamoci Che io mi ero già stupito Quando Con il primo TikTok Che ho fatto Ne avevo fatti 400 E tra l'altro Sempre quei primi lì Ad oggi Che sto registrando Sono ancora lì Sono praticamente fermi A un centinaio in più Quindi ragazzi Non è che tutto cresce Ok Vi rendete conto Che la velocità Che c'è stata Nel mio canale Ha un livello Esponenziale Al primo giorno Che ho pubblicato Praticamente Quel video lì E il giorno dopo Perché ha fatto Il boom Il terzo giorno Ho detto Caspita Si rallenterà Per forza di cose Ma è normale E l'ho abituato Il giorno prima Ad aprire E quasi ogni due ore Leggevo sotto la notifica Più 99 Poi dopo un po' Più 99 Che praticamente Non toccava Il Toccava il massimo Praticamente possibile E allora Il giorno dopo Va avanti È andato ancora avanti Tutt'ora Adesso che è venerdì Ripeto Quello che Vi sto per dire adesso È successo Mercoledì Come cosa Oggi che è venerdì Lo stesso Mi sta portando iscritti E lo stesso Tiene ancora Un sacco di visualizzazioni Al giorno E mi piace Ad adesso Che sto registrando Questo video qui Ha fatto 300.000 visualizzazioni 300.000 Visualizzazioni Contro gli altri Che ho fatto Sempre con quella stessa Vena trash Ok Hanno avuto Non pochi Non sono pochi Ragazzi mi raccomando Però hanno avuto Leggermente meno visualizzazioni Dalle 1000 Alle 800 Alle 600 E quant'altro Mi piace anche Il massimo che ho avuto Dopo quello lì Sono 47 Questo video qui Ora ne ha più di 7.000 Più di 7.000 Mi piace Più di 60 commenti Un video è bastato Mi ha portato Un sacco Di iscritti E adesso Arriviamo anche al punto Un po' Della situazione Della situazione Di quello che penso Comunque anche Di TikTok Di questa piattaforma Chiaramente Io vi posso dire Appena mi sono seduto qua Per registrare Ho detto Finalmente Entriamo nel mio mondo E che mi appartiene Nel senso Che sento di più Perché questa piattaforma Qui YouTube È quella che Proprio mi piace La seguo davvero Da tanti anni Saranno penso Più di 10 Ormai che la seguo Come piattaforma Mi piace È proprio Il mio modo Di condividere È qui dentro Lasciando stare Che anche qui Ci saranno le eccezioni Ci sono le eccezioni Le conosco Però Ovvio che Quello che riguarda me È il mondo Del videogaming Però C'è un però Non sono sempre Io così Serio Tra virgolette Come mi vedete qui Io ho un po' Quel lato Che stuzzica Tra virgolette No? Delle battutine O robe del genere E quindi Io ho fatto Uno più uno TikTok È Praticamente Il contenitore Del trash Però C'è Il trash Fatto bene E il trash Fatto male C'è un trash Fatto male Che è quel film Che vuole fare Il serio Ma che Chiaramente Vedi Che è di una banalità Incredibile Pieno di errori Buchi Di sceneggiature E quant'altro E c'è quel trash Studiato Per essere Trash Che vuole Proprio stuzzicare Punzecchiare Oppure esaltare Determinate cose No? Ecco La stessa cosa Io ho fatto Questo mondo qui Del videogaming Tradotto In chiave Comica Facendo degli sketch Da 15 secondi Su TikTok Dove appunto Vado magari Ad esagerare Ampliare Amplificare Determinati aspetti Di questo mondo Che ci circonda In chiave TikTok Quindi Ampliata Con i tagli Eccetera 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 Oppure Vederne delle banalità Vedere delle cose Farci la gag Tra virgolette Mi vengono proprio In automatico Certe scenette Ragazzi Proprio Anche adesso Che sto registrando Ne avrei anche altre Da fare Ne ho altre in mente Delle boiate incredibili Ed è proprio quello Cioè Io lo prendo Proprio per il culo Io proprio Prendo in giro Ok Chi Questo Non questo mondo Nel senso Chi gioca Prende in giro Le scene Che capitano Come potrebbe essere Magari Quando tu registri La sera E magari Vuoi giocare Con gli amici Ma è notte Quindi devi parlare A voce bassa E lì Ci ho fatto la scenetta La scenetta Che fanno Tutti il change Di farsi vedere Brutti E poi sono Dei modelli O modelle Perché chiaramente È popolato Di queste Trasciate TikTok E io l'ho preso In giro Con la scenetta Del joystick Della Play 4 Che Insomma Poi fa il change Capite ragazzi Quindi io prendo Questo mondo Qui E l'ho messo In quella chiave Là Ora Lati positivi E lati negativi Posso dire Che il lato positivo Se vogliamo guardarlo È Devi saperlo un po' Trovare Perché Non è proprio Palesato Altrimenti Quello che tu Guardi Quello che ti palesa È un insieme Di Minchiate Cioè TikTok È un insieme Di minchiate Ma Se cerchi bene Tra quelle Minchiate Ti puoi divertire Soprattutto Se tu hai Un settore E dove loro Ci fanno delle scenette Su quel settore Quindi Letteralmente Se non stai attento Per modo di dire Ti puoi passare Davvero Delle mezz'ora O un'ora Abbondante A guardarti TikTok Abuso Perché? Perché è proprio Tutto esaltato Sono delle vignette Comiche Ti fanno ridere Ok? Quindi Sì c'è il lato Suo trash Come su YouTube Solo che lì È tipo Amplificato A manetta A manetta Ecco Il lato negativo Qual è? Io ho 24 anni Quindi io riesco A prendere Determinate Nozioni Determinate informazioni E input Riesco a prenderli E Sempre Comunque Con una immaturità Dovuta dall'età Rispetto a un adulto Più grande Comunque Riesco Lo stesso A stare Quei piedi per terra Non è che appena Ho visto che Con quel video lì Ho fatto mille iscritti Allora mi sono montato La testa E ho detto Ah divento un TikToker Adesso mi prendo Va cagare E faccio finta Di fare queste cagate Perché dico Di queste cagate? Perché se un ragazzino Non sta attento E vede quei numeri lì Arriva Poi A volerne Ottenere sempre di più Facendo Cavolate Anche magari gravi Delle stupidate Pur di farsi vedere Perché Il punto di vista Che ha La gente che guarda TikTok È come me Magari Ma anche tanta gente È quello di vedere La roba comica Quindi pur di far ridere Magari è disposto A fare di tutto Quindi è un'attenzione Che bisogna magari dare A chi è tanto giovane E con tanto giovani Ragazzi vi dico Che sono anche Età delle medie Probabilmente Sono ancora più piccoli Tanti tante Attenzioni Perché Quella gente lì Quei ragazzini lì Quelle bambine lì Se vedono Che con 15 secondi Hanno ottenuto 50.000 like E X.000 iscritti Si montano la testa Ma in modo negativo Non nel modo Serio Ok Quindi ecco Quella è un po' L'attenzione Non montarsi la testa Non montarsi la testa Ma questo è un po' In tutto Però Su YouTube Per esempio Che è proprio Come direbbero Est mi casa No È il mio habitat Su YouTube Non vieni premiato Se pubblichi 15 secondi È una minchiata Ok Quindi Il bambino Letteralmente Il bambino Non lo dico Nel senso dispregiativo Ma proprio di età Il bambino Che vede queste cose qua Le mette Ok E basta Cioè si guarderà lui Se stesso Sua mamma Suo papà O il suo miglior amico E basta Più o meno come il numero Delle mie visualizzazioni A video 5 No però Cosa succede? Su TikTok Se tu fai una scenetta E hai 8 anni Quella scenetta lì Ti fa un macello Di iscritti Anche se hai 8 anni Oppure un macello Di Di visualizzazioni Bian C'è da dire che Non è vero che comunque Tutto quello che metti Fa viralità Ok Quindi È vero quello che ho detto Che c'è la possibilità Ma non è che Automaticamente Perché Uno pubblica E allora automaticamente Fai visualizzazioni Non è così semplice Lo stesso Ma Il punto Non è tanto La facilità O la difficoltà Nell'ottenerle Queste cose Ma Chi può Ottenerle Il target Che le ottiene Quindi i bambini O le bambine Che anche loro Possono ottenere Un sacco Di visualizzazioni E mi piace Non dico più facilmente Non dico con più difficoltà Ma li possono ottenere Cosa che è molto più difficile Sul tubo Capite il punto? Ecco Quindi questo è un po' Il rischio Che un bambino Si può montare Tranquillamente La testa E arrivare a fare Delle cavolate Pur di ottenere Anche perché ragazzi 15 secondi Del proprio tempo In una giornata Tutti ce l'hanno Rispetto a un video Su youtube Che ti può impiegare Ore per essere editato Se vuoi fare le robe Fatte bene su tiktok Anche lì Devi fare dei minuti Anche mezz'ora Magari Per sistemarti l'inquadratura Fare gli effetti E quant'altro Però Non è la stessa cosa Di usare un programma Professionale Sul computer Per editare I propri video di youtube Quindi È già quello Un ostacolo È uno step Che un bambino Non riesce a fare E non sa fare Di conseguenza Lo tira indietro Invece Su tiktok Ti basta veramente Di avere il cellulare Inizia a riprendere Ti sei fatto 15 secondi Sia che tu abbia 8 anni Che ormai gli smartphone Ce l'hanno anche I bambini di 5 Tra un po' Fino A andare a fare Tutto quello che ti serve Ecco Quindi Cosa voglio dire Ho fatto Mille Adesso sono a 1100 Rotti iscritti Ho fatto Con quel video lì 300.000 Visualizzazioni E 7.000 Circa Anzi No Circa di più 7.000 Mi piace Sotto quel video lì Chiaramente Mi fa Piacere È soddisfacente E Non smetterò Per i motivi Che ho detto prima Da fare I tiktok Perché È una sorta Di esagerazione Un'esasperazione Un po' come nel disegno Che ci sono le caricature Ecco Quella è una caricatura Di un mio aspetto Quindi Io già di mio Ho l'aspetto Che mi piace guardare Le trashate fatte bene Mi piace guardare Quelle venette comiche Che mi arrivano a Punzecchiare No? Ecco E ci metto la caricatura Ci faccio un bel bordo E lo amplifico E lo piazzo lì A tema Video ludico Io il mio tiktok L'ho Tutto strutturato Per fare scenette Nel nostro mondo Nel mio mondo Nel mondo Che guardi anche te Probabilmente Se guardi questo video Che è quello Dei videogiochi La mia passione Numero uno E quello che più Mi piace in assoluto A livello proprio Di intrattenimento Ecco Quindi È una bella piattaforma Quella di tiktok Se saputa usare Può dare nausea Ma nausea Non letterale Nausea metaforica Nel senso che Comunque Veramente Ci puoi passare Tanto di quel tempo Che ti stufi Ti stufi E secondo me È una di quelle piattaforme Che va tanto a periodi Nel senso Youtube Tu la puoi guardare E fare delle cose Che vanno In Magari In ripetizione Molto più In maniera ridotta Mi spiego Tu puoi fare Un periodo Che su Youtube Girano le challenge Però quel periodo lì È breve E tra l'altro Molto spesso È dei Quei contenuti lì Sono di quelli youtuber Che segui Quindi c'è il periodo Challenge Del cibo Bene Tu sei iscritto Con 10 canali Magari 3 Ti fanno Quel video lì Tutti lì Guardi E dici Cavola È proprio il periodo Delle challenge Sul cibo E finisce lì Chiaramente Se poi te ne cerchi Anche altri Ti trovi tutti suggeriti Ma ti si ferma Lì ripeto Dall'altra parte Se c'è il periodo challenge Che ogni settimana Ci sono più challenge In corso Tu rischi di vederti Non 1 Non 2 Non 3 Ma 10 20 30 video Che hanno tutti Quella colonna sonora lì Quello sketch Quella Anzi Quella struttura Di quello sketch lì Che hanno tutti Lo stesso format Tutti con Magari Con lo stesso filtro Eccetera 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 In casa È quello che gira Ma li può anche essere divertente Paradossalmente Anche avendo meno spunti Dell'esterno Perché poi una volta Che siamo fuori Si è la possibilità Di fare le minchiate Per avere visualizzazioni A meno in casa Il massimo della minchiata È buttarsi un secchio d'acqua In faccia Per esempio Quindi Almeno lì Penso di essere capitato Nel periodo giusto Comunque Ecco Queste sono le mie prime impressioni Di questa piattaforma Di questo Social Chiamatelo come volete Non andrà a sostituire YouTube Ma Statene tranquilli Però Se volete comunque Seguire Quella mia valvola di sfogo Quella mia parentesi Trash Che ho Là Su TikTok È sempre in site Videogames Ragazzi L'immagine è quella Anche bene Se la dovessi cambiare Comunque Questo è il mio faccino Quindi lo vedreste anche lì Non Non è Un personaggio È una caricatura Di un mio aspetto Quindi Anche lì Mi piace Perché non è che Devo fingere Devo fare delle cose strane Ok No ragazzi Prendo quello che mi circonda La mia testa Che è già malata Tra virgolette Da quel punto di vista Inizia a fare le sue elaborazioni E no Mentre sono lì a lavoro Sono lì che Le mani ormai vanno da sole E la mia testa è lì che Pensa 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 Eccetera Dai Quindi è simpatico Se volete andare a vedere Ne ho fatti già un pochino Dovrebbero essere 7-8 I TikTok che ho fatto Forse anche 9 E niente Spero che Questo video vi sia piaciuto Dai Ci sta È simpatica Già la curva di crescita È iniziata a calare È tutto andato Però magari Un altro video Potrebbe Rifarla Risalire Chi lo sa Ah Quasi stavo Quasi stavo Dimenticando Che in realtà Quel modo lì Potrebbe anche essere Una sorta di Cartello pubblicitario Chiaramente Sul canale Per il canale Ovvio che Il target Che andrei a prendere È decisamente diverso Da quello che guarda YouTube E da quello che Potrebbe Guardare i miei video Perché comunque I miei video Sono Matteo Praticamente Al 95% Perché L'altro 5% È la mia vita privata Però non è che io Che ne so Devo mettere un filtro Una maschera Perché Non voglio dire Che quel gioco Non mi piace Io ve lo dico Quel gioco Non mi piace Punto Quella roba mi fa ridere Non mi fa ridere È una minchiata Non è una minchiata Ve lo dico Sono io Ecco Quindi anche lì Sono più Magari Estroverso Mettiamola lì Però fa sempre parte Del mio carattere Quindi spero che Ripeto Questo video Vi sia piaciuto E ci vediamo Nel prossimo video Buona giornata a tutti